Dopo il giuramento del nuovo Parlamento regionale per il Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani è arrivato il momento di disegnare le coordinate per la formazione della nuova Giunta. Ho sempre detto che il mio sarà un governo aperto al confronto con le opposizioni e da parte mia non ci saranno mai pregiudiziali. L'Aggiunta, dice Schifani, sarà presentata tra il fine settimana e lunedì prossimo mentre mercoledì ci sarà il giuramento degli assessori all'Ars. I tempi sono scanditi, sono perentori, occorreva partire e siamo partiti. Con queste parole il Governatore siciliano, a margine della prima seduta della nuova Assemblea regionale siciliana che ha eletto il Presidente Gaetano Galvagno, ha scandito le prossime scadenze del suo governo. Il Presidente ha intervenuto anche su alcuni aspetti della composizione della futura Giunta, in particolare sull'identikit di chi potrebbe ricoprire l'incarico di assessore alla salute. La dottoressa Giovanna Volo, che è stata manager della sanità, riconosciuta e apprezzata da tutto il mondo della sanità pubblica e quindi credo che possa dare un grosso contributo al nostro governo. Una persona che non ha mai fatto politica, una manager competente, credo che possa dare una forte spinta a quelli che sono i temi delicati della sanità pubblica, cioè liste d'attesa, aree d'emergenza, attenzione anche a quell'aspetto privato delle diagnostiche strumentali che potrebbero, se finanziate, ridurre le liste d'attesa degli ospedali pubblici. Fra le parti, come ha ammesso lo stesso Governatore, c'è stato un primo confronto in cui la dottoressa Volo ha mostrato grande disponibilità a rivedere alcuni temi. Non voglio che nella sanità, ha concluso Schifani, ci siano scontri tra pubblico e privato. Non ci devono mai essere steccati quando si parla della salute dei cittadini. Grazie.